Voglio sfidare Di Maio, perché noi abbiamo sentito questi 5 Stelle parlare di casta, il taglio degli stipendi dei parlamentari, noi abbiamo una proposta seria, abbiamo fatta da tempo, vorremmo che i 5 Stelle la facessero loro, leghiamo gli stipendi dei politici, parlamentari, ministri, presidenti e consiglio all'andamento dell'Italia, se l'Italia va meglio i politici guadagnano di più, come accade per gli azionisti? Se l'Italia va bene i politici guadagnano di più, se l'Italia va male i politici guadagnano di meno, io spero che i 5 Stelle vogliano sposare questa nostra proposta, temo che avranno qualche difficoltà, perché se Di Maio è come la Raggi, che rischia di essere peggio della Raggi, non è che loro non prendono lo stipendio, ci devono proprio pagare loro a noi, hai voglia dire ci vogliono i politici capaci?